Ciao amica, ciao amico, mi chiamo Marcello, faccio questi video perché sono un appassionato di moto, se anche tu come me lo sei iscriviti al canale e attiva la campanella perché pubblico un video al giorno. Oggi ti parlo di Zundapp MC 125 del 1974 perché mi piace l'idea di parlare delle moto da regolarità degli anni 70 e 80 che ci hanno accompagnato nella nostra passione per il mondo delle due ruote. Nasce dal partire dagli anni 60 e 1970 proprio il mito del marchio Zundapp come moto che gareggiavano nel campionato europeo della regolarità ad esempio nelle valli bergamasche ed erano diventate famose appunto per la loro robustezza ma poi vediamo. I primi modelli per il pubblico arrivano però sul mercato nel 1973 con la presentazione al 43esimo solo del ciclo motociclo di Milano dello stesso anno. Infatti il modello poi viene commercializzato nell'anno successivo quindi nel 1974 rispetto alla versione precedente il serbatoio non è più cromato ma è verniciato di rosso con la parte inferiore nera in cui compare la scritta Zundapp. Quindi vediamo la moto in questa immagine che la rappresenta. Quindi sulla denominazione voglio dire due cose nel senso che denominata come si vede anche dalla scritta che c'è qui sulla moto MC che sta per motocross però è di fatto una moto GS quindi Gelande Sport quindi in alcuni casi ho trovato la doppia denominazione MC e GS. Comunque a parte questo particolare partiamo dal motore che è un monocilindico a due tempi la cilindata è di 123,6 cm3 perché l'alesaggio costa 54 x 54 mm. Il cilindro in lega di alluminio ha la canna cromata, questa versione, poi verrà utilizzata nel 1976 se non vado in rando il rivestimento al Nikasil. La distribuzione a due travasi, poi questa verrà modificata, l'alesaggio per la corsa è di 54 x 54 mm, l'abbiamo detto prima. In particolare sul motore vorrei evidenziare con queste immagini il fatto che le alette, vedete, fossero parallele al terreno quindi aveva questa caratteristica proprio una caratteristica particolare ma appunto per favorire il raffreddamento quindi l'aletta non è perpendicolare all'asse del cilindro bensì proprio parallela al terreno e questo favoriva naturalmente il raffreddamento quindi una caratteristica proprio di questo motore. Veniamo poi al quindi raffreddamento ad aria, abbiamo detto la potenza massima in questa moto è di 19 cavalli che sono stati poi aumentati ovviamente nel tempo a 7600 giri al minuto l'alimentazione è fornita da un carburatore della Bink con un diffusore da 27 mm. Il telaio è formato da una doppia culla chiusa in tubi d'acciaio al cromo, la forcella è teleidraulica scusa, il perno centrale è costruita dalla Zundab stessa e si caratterizza per avere il traversino di rinforzo si vede qui nell'immagine sotto il soffietto quindi particolarmente curata la robustezza dell'unità. Il diametro degli steli è di 32 mm mentre la corsa è di 150 mm circa. Al posteriore invece siamo in presenza di due ammortizzatori regolabili della König con un'escursione della ruota in questo caso di 120 mm quindi caratteristica interessante appunto la presenza di questi due ammortizzatori e già che ci siamo volevo sottolineare il fatto che è presente una marmitta quindi una marmitta laterale tra l'altro appunto che sfocia in questo grande silenziatore vedete che sporge leggermente dalla sagua una caratteristica di tutte le moto Zundab di avere questo tipo di soluzione quindi marmitta che ha già l'espansione abbastanza lunga abbastanza come dire che favorisce il tiro ai bassi regimi infatti la moto era caratterizzata appunto per un tiro ai bassi regimi notevole. Altra caratteristica quella del cambio che non è altrettanto positiva perché il cambio aveva una corsa piuttosto lunga ed era tendente oltre ad avere cinque rapporti aveva tendenza poi anche a non funzionare in modo ottimale rispetto ad altre moto come ad esempio KTM. Ultima cosa che mi premeo a sottolineare i parafanghi vedete sono di colore grigio si vedete poco qui nel posteriore dove c'è la tabella porta numero però sono entrambi di questo colore generalmente invece erano bianchi comunque tornando a noi le ruote sono naturalmente raggi 21 pollici all'anteriore 18 al posteriore con i cerchi in acciaio cromato. Il freno anteriore poi a tamburo centrale in lega di alluminio da 150 mm così come il posteriore il serbatale ha una capacità di 12 litri e il peso secco di 92 kg. Se ti è piaciuto il video metti un like se non ti è piaciuto dislike ma iscriviti al canale e attiva la campanella primo è gratis non ti costa assolutamente nulla secondo faccio un video al giorno e se sempre aggiornato aggiornato sui nuovi contenuti qui sotto i tuoi commenti sono sempre graditi ciao buona serata